La mia foto appesa al esambulatore fa quello che è, Bennati, e allora mi chiamano il veterinario e mi fa guarda che c'è Lorenzo che vuole conoscerti, ho detto che Lorenzo vuole conoscerti No perché ho visto la foto e ho detto cara ma tu conosci il Bennati, che è il campione E ho detto manco viene anche lui qua, e ho detto ma porco cane, fanno lo conoscere, le stringo la parte Il porco cane è da verennario? No A punto E ora sono più belli arrivati, c'è il porco Non è un insulto, no, perché per un cane essere pagato a un porco va bene, per un porco essere pagato a un cane Io lo chiederemo E quindi insomma dal veterinario è nata poi questa bella amicizia Sì, poi c'è un assuntamento che tu è di... È una radioonda blu Ah esatto, sì sì, c'è una radio di Cassio Perché siamo di Cortona, lui è di Cassio in Fiorentina Siamo parenti serpenti perché c'è rivalità fra le due città Pur essendo a 10 chilometri dall'altra, sai che in Toscana anche i 100 metri vanno Sì, non so, io ce l'ho da 4 anni Sì, che è il campanilismo Anche semplicemente dal... A Cortona ci sono 5 quintieri di 300 persone l'uno e sono i rivali Quindi ognuno poi con i propri colori, i propri stemmi Il campanilismo, proprio la lendissima potenza Ma domani vai a concerto di... No, stai vieno Sarei voluto rimanere volentieri ma purtroppo O per fortuna domani mi devo allenare Perché io non posso... Non faccio esistere domenica Adesso un giorno di riposo non sufficiente Domani devo ricominciare Ma il riposo un po' di fericolo? Per me è riposo Cioè non fai niente, non si abbatta niente E trova domani 6, 4, 3, 4 ore Grazie Grazie Grazie